Eccolo, guardatelo, spettacolo puro, spettacolo. Ecco una piccola parentesi, volare con questo modello, con questa rapidità, diventa veramente insostenibile. Questo è il frutto dell'impegno di un ragazzo con tanta passione, veramente tanta passione e amore per questi occhi, seguito dal papà Emanuele. I risultati si vedono e non ci sono più secondi di uscire, io ne ho mai. Farei un grande applauso al nostro grandissimo Emanuele Matteo Corazzina. Emanuele Matteo Corazzina Emanuele Matteo Corazzina Questa manovra, vedete, è un impegno non indiferente. Ci vogliono anni prima di seguirla in questo modo. Guardate con quale rapidità che altezza porta il modello. E spingere oltre ogni limite. Questo metronomo è praticamente immobile. Non è un impegno. Emanuele Matteo Corazzina Ma veramente, non l'ho detto, ma è quanto sotto inseso. Molto vento, quindi è veramente ancora più argoli. Ci spiuta di pilotare questo modello, perché il vento ha il suo effetto. sul modello, perché il disco del rotore è veramente, veramente in condizioni da... Guardate, a che altessa esce il rovetto, quasi toccando il suolo, un grandissimo applauso a Matteo Corazzini, che veramente si è dimostrato un fenomeno. Grandissimo Matteo, ecco con una Snyder ad altissima velocità. Cambiamenti di passo, yeah baby, grande Matteo Corazzini che ci sta portando ai limiti dell'immaginabile con un modello, un grande applauso, partirà con una... ecco un'autorotazione, guardate il modello, il motore al minimo. Spettacolare, spettacolare, Matteo Corazzini.